Al Gran Caffetrezza è stato un successo l'evento che ha coinvolto diversi artisti con mostre, letture e musica. Tra gli eventi anche la presentazione del fumetto di Emanuele Sabatino, Matte Covid, diari di una pandemia. L'evento è stato organizzato dal Gran Caffetrezza con Michele Morrone, poeta e scrittore, e Marianna Adesso, giornalista ed event manager. Oltre all'evento legato al fumetto del disegnatore di San Rufo con l'introduzione di Antonella Inglese, è stato presentato anche il libro Incipit di Francesco Castellucci. In mostra anche le opere dell'artista Emiliano Perillo di Atena Lucana, il tutto accompagnato con la chitarra classica del maestro Juan Manuel Di Gruccio di Buenos Aires.